Ciao a tutti ragazzi, ecco ad uno dei momenti più importanti delle mie rubriche, quello in cui commento le foto del grande Francesco Comello, quella che vedete qui è proprio una sua foto e prima di passare al mio commento vorrei leggere due righe che mi ha scritto lui nel momento in cui mi ha mandato la fotografia da commentare. Francesco ci dice ho fatto questa foto durante il mio ultimo viaggio in Russia nel 2019 nella piccola città di Corgopol, spero di pronunciare bene gli accenti e anche le pronunce, distante poco più di un'ora dal villaggio di Oncheviensh, anche qui perdonatemi se la pronuncia non è corretta, rivedevo quei luoghi dopo quasi dieci anni. Sono convinto che tornare nello stesso posto più e più volte anche a distanza di tempo è indispensabile per entrare in empatia con le energie che esso emana. Si pensa che uno dei possibili significati del nome Corgopol derivi dal suono nomatopeico Carg, gracchiare dei corvi, e polis che significa città. Città dei corvi appunto. Qui ho trovato una chiesa che da 15 anni aspetta di essere ristrutturata, invece è ancora lì, avvigniata dentro immense impalcature di legno. Questa foto è una di quelle che non arrivano per caso. Quando vidi quel luogo si materializzò immediatamente dentro la mia testa l'immagine che avrei voluto fare. Si trattava solo di trovare la giusta condizione di luce e pazientare, attendere che i corvi spiccassero il volo. È interessante perché questa, Francesco dice che è una foto costruita, non solo che è nata anche nel tempo, no? Quest'idea di tornare più volte nei luoghi e di fotografarli mi trovo perfettamente d'accordo. Io sono capace di tornare nello stesso luogo, anche se non è distante, anche centinaia di volte, perché sono convinto che la luce non è mai la stessa e che l'atmosfera non è mai la stessa e come piace dire a me lo spirito, no? Quello che permea tutto questo, quindi la luce, il nostro essere lì, il tempo, la nostra condizione interiore, io lo chiamo spirito, non è mai lo stesso e quindi la nostra relazione fotografica con gli oggetti non è mai lo stesso. Qui è interessante il fatto che Francesco ci racconta che ha atteso, no? Sapeva che in una certa ora probabilmente la luce avrebbe creato la silhouette e ha anche aspettato che i corvi volassero, no? Per ottenere questo effetto. Il tema dell'attesa in fotografia secondo me è un tema interessante perché ha a che fare con l'altro tema che è quello del congelare il momento. Io sono più convinto che la fotografia è sempre un'attesa, anche quando scattiamo la fotografia, anche quando scegliamo tutto, attendiamo, no? Perché dopo che l'abbiamo scattata, anche se oggi col digitale la vediamo subito, in realtà la foto è sempre un'attesa perché ogni volta che la guardiamo va oltre e quindi c'è sempre qualcosa da aspettarsi da una fotografia. Quindi il fatto che tu abbia aspettato per fotografare questa immagine secondo me raddoppia questo senso, no? Infatti perché ne parliamo? Perché la guardo io e ritrovo, no? Questa forma d'attesa. Perché la fotografia vive in questo desiderio, no? Che qualcosa accada. Ecco, quando noi guardiamo una fotografia comunque la trasformiamo e in questa trasformazione della fotografia c'è una sorta d'attesa, perché io quando commento le foto non le guardo cercando di intervenire, ma la fatica più grande che facciamo soprattutto noi occidentali è quella di aspettare che la foto arrivi a noi, cioè guardarla affinché non ci arriva, che è diverso dal guardarla interpretandola, perché l'interpretazione è mentale, mentre il fatto che ci debba arrivare un'immagine ha a che fare con il femminile, con il fatto di farsi vuoto, no? E poi ascoltiamo quello che ci accade dentro quando la guardiamo. A volte questo ascolto ha bisogno di più tempo, a volte avviene immediatamente, perché nella parte femminile nostra, quella che attende, il tempo non è cronologico. Quindi quello che avviene in un istante può avvenire immediatamente, così come può avere bisogno di, che ne so, due ore, di tornare più volte sulla foto. In questo caso, come ho visto la foto, immediatamente ho avuto un input. Forse perché mi ricordavo un mio scatto, che metto in relazione, perdonatemi, che è questo qua. Questa la fece a Roma, questo è il Colosseo. Qui, a differenza di Francesco, io non l'ho aspettato questa situazione. Stavo a Roma la mattina presto, infatti questa è un'alba, il sole si viene in basso a sinistra, e ho scattato questa immagine. E anche qui ci sono dei riferimenti simbolici identici a quelli di Francesco. Manca la croce, ma c'è il simbolo del Colosseo, che di suo è simbolico così quanto la croce e la chiesa, almeno per noi occidentali. C'è la struttura, l'impalcatura e c'è il volo dell'uccello. Non voglio fare un parallelo tra questa mia foto e la sua, però erano incredibili le relazioni, perché secondo me tutte queste, tutte due queste fotografie hanno come un tema fondamentale, che è quello della morte. Ma non la morte intesa come fine di qualcosa, ma intesa come concetto che noi abbiamo di morte. La cosa interessante, sia della mia foto, ma in particolare di questa di Francesco, è la struttura. Questa è una chiesa, lui ci racconta, ci saremmo potuti arrivare anche noi, però il vedere tre croci, sicuramente capiamo che è una struttura, che è una struttura architettonica, ci sono queste tre croci. Il fatto che ci sia questa struttura a tenere l'impalcatura mi dà sempre l'idea di come noi strutturiamo il mondo, del nostro voler confinare qualcosa all'interno di categorie, di ideologie. Quando questa cosa, questo voler confinare ha a che fare con i confini massimi della nostra esistenza, la vita e la morte, questo confine diventa ridicolo. E infatti questa impalcatura in legno, si vede o non si vede, e mi dà questa idea, come se noi volessimo in qualche modo strutturare, concludere, chiudere la morte in un contesto. Non è poi quello che fanno molte istituzioni religiose, quella di cercare di dare significato alla morte. Io sono convinto che la morte non ha un significato, semmai ha un senso, una direzione, nel senso che noi camminiamo verso quella cosa, che è comunque una trascendenza. E io sono convinto anche che la morte non è qualcosa che ha a che fare solo con il corpo fisico, ma è qualcosa che noi viviamo più volte nella vita. In questo caso, in questa fotografia, l'altra cosa interessante, oltre a queste impalcature in legno, che sembrano voler sorreggere qualcosa, che non riescono a sorreggere, perché l'inquadratura dal basso, che paradossalmente dovrebbe metterci in una posizione di sottomissione rispetto a quello che vediamo. Con questa silhouette, con questa impalcatura, ce la fa notare come se la guardassimo da lontano, non come se fossimo sottomessi a questa cosa. Non mi dà l'idea che questa chiesa mi arriva addosso, ma mi dà l'idea che la posso guardare ancora più da lontano perché sto basso, sto in una posizione diversa. Il mio essere basso e guardare in alto, in questo caso, non è un guardare qualcosa di superiore a me, ma qualcosa che mi appartiene. Questa struttura fa parte di me, perché la struttura è sia la struttura societaria, ma è anche il corpo. È tutto ciò che confina qualcosa per poi fare in modo che l'essere umano possa trascenderlo, che poi è il tema della fotografia, per esempio, del fotogramma. Che cos'è il fotogramma se non un confine da trascendere? Quello che facciamo raccontando le fotografie, anzi, narrando, raccontando le fotografie, è trascendere quello che vediamo. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questa immagine sono le croci, che non sono disposte tutte e tre in maniera simmetrica. Abbiamo le due croci a sinistra e quella a destra, che poi sono servite a Francesco anche per dare una composizione più bilanciata all'immagine. E qui c'è il tema della triade, visto dal punto di vista hegeliano, della dialettica, del fatto che il tre è un numero sacro perché c'è sempre l'interazione tra due cose che ne creano una terza. Ecco, in questa immagine io la vedo, questa interazione. La diade che sta a sinistra è l'uno che sta a destra, come se ci fosse questo continuo movimento. Noi viviamo sempre di conflitti che poi si risolvono in un uno e che poi si ridividono, come un movimento costante delle cose, come il respiro, questo riunirsi e risipararsi. Anche la luce dietro che aiuta la silhouette a diventare tale, questa luce che arriva da dietro, mi ricorda questa idea di separazione. Io ho sempre legato la luce alla separazione, la luce all'elemento che ci permette di guardare l'altro e di riunirci all'altro attraverso la composizione. Ecco, queste due croci vicine rispetto a quella a destra mi ricorda questo movimento. E quindi stiamo parlando di morte perché questa è una chiesa, ci sono tre croci e che cosa sono i corpi che volano, no? Se no, la nostra idea di corpo trascendente, cos'è il volo per noi. Il volo è lo staccarsi da terra, no? Il diventare aria, l'interagire con l'aspetto più sottile, no? Quindi per noi i uccelli che volano, i corpi in particolare poi hanno anche una tradizione legati alla morte, no? Legate poi alle tradizioni più che altro quella sorta di scaramanzia, no? Che abbassa il senso della trascendenza perché noi umani purtroppo siamo capaci di cose eccezionali ma siamo capaci pure di abbassare tantissimo il senso delle cose che ci accade. Quindi questi uccelli che volano possono essere anime, no? Anime che trascendono, che si allontanano dalla struttura. E guardate come la struttura tenta di tenere insieme, no? Questa chiesa, poi le croci non sono neanche perfettamente dritte, quindi questo tentativo di strutturare è sempre un po' così, no? Poco stabile. Cioè questa struttura fondamentalmente non riesce a contenere questa idea. Gli uccelli che volano danno questa idea che a un certo punto qualcosa esplode, no? Da questa struttura. Alla fine fondamentalmente noi dobbiamo lasciarlo questo corpo, no? Il nostro essere nel mondo è lasciare un residuo di noi anche dal punto di vista del corpo fino ad arrivare al massimo che è questo scomparire, no? Fisicamente. Ecco, a me questa fotografia mi ha raccontato questa. L'interazione tra la nostra strutturazione ideologica, le istituzioni, che in questo caso quelle religiosi, ma per istituzioni intendo comunque la società in generale, che tenta di confinare l'uomo all'interno di idee di un certo tipo, e poi però questo contrasto continuo tra le strutture e il nostro trascendere, quindi il nostro essere continuamente uno e due, no? Quindi l'interazione con l'altro, la separazione che poi diventa rionificazione, più alla massima rionificazione che è quella in cui il nostro corpo diventa di nuovo terra, no? Ecco, questa fotografia mi ha mostrato tutto questo e la sensazione che ho guardandola non è tanto della paura, no? Che un giorno questa cosa finirà, ma della consapevolezza che questo riconoscere la struttura, questo saperla guardare e questa coscienza del fatto che noi da qua ce ne dobbiamo andare, diventi poi il vero senso dell'esistenza. E che cos'è la fotografia se non questo immaginario tentativo di fermare qualcosa? Così come facciamo con ogni cosa, anche la fotografia, noi la possiamo guardare come semplice documentazione di qualcosa, no? Come un ricordo, come qualcosa che racconta quello che ho vissuto e questo è un modo di vederla. Oppure questa fotografia può essere qualcosa che parla di un concetto universale, no? E può essere che Francesco sia arrivato lì quel giorno, in quel momento per cogliere questo che è un concetto universale. A lui magari è servito di andare in Russia, no? Per trovare questo concetto. Ma poi il fatto che all'interno di questa immagine ci siano dei temi che riguardino l'essere umano e l'universalità di quello che siamo, riunisce tutti noi in un concetto. E soprattutto questo fotogramma, oltre ad essere la chiesa della città di Corcopol, se non mi ricordo male, è anche l'idea di morte, l'idea di struttura, l'idea di come noi a volte siamo ridicoli, no? Nel voler confinare quello che siamo. E come però allo stesso tempo questo confine sia indispensabile a fare l'esperienza della vita. Quindi il fotogramma di Francesco, in questo caso, è la massima espressione della fotografia, secondo me. Cioè il fatto che ci sia un confine che strutturi qualcosa e che nel suo strutturarlo ci racconti di come sia impossibile poi fondamentalmente chiudere all'interno di un confine tutto ciò che è umano. Spero che il parallelismo che ho fatto con la mia fotografia non sia troppo blasfemo e spero soprattutto che vi sia arrivata la sensazione che questa foto mi ha mandato in maniera molto potente. Vi rimando al prossimo incontro con le foto di Francesco, lo ringrazio e spero di sentirlo presto. Ciao a tutti!